Puzzo Natura, la categoria prossima alla partenza, la categoria allievi e allievi femminili, allievi maschili e allievi femminili, alla Puzzo Natura. E abbiamo altri concorrenti che vanno a concludere, 405 Daniela Ligorio, seguita da Francesca Bruzzone, studente Rito Arrubini, dalla Vittoria Sant'Agata. Signori non attraversiamo la linea d'arrivo, il percorso, altre concorrenti all'arrivo, lo sprint con testa e testa tra due concorrenti. Abbiamo quasi 16 minuti di gara, mantenere la posizione d'arrivo, non oltrepassare... Dopo viene tagliato al sprint a due pietre, periodo fattore a parecchiali su 500 metri, Delle categorie femminili, junior, senior e veterinario femminili, otto le categorie al via, tutte le categorie femminili, 3 km e 500 metri per loro, altre concorrenti. Mette, preghiamo la categoria allievi maschili, allievi femminili, dai giudici per la pulzonatura. Bene, forza, siamo alla confusione, la nostra fatica, 3 km e 500, vedo anche una concorrente del Ponte Lungo, società bolognese, altre concorrenti al termine. arrivo allo sprint per un'attività dell'Olimpia di Gnola, che va a sovrastare un po' sulla linea di retroguardo, l'attività che la precedeva. Abbiamo altri concorrenti che stanno terminando, ricordo che i categori in gara erano junior femminili, senior, balà alla E, 5 categorie senior femminili e 2 categorie veterane, categoria G e categoria I, che vanno in base all'anno di nascita. arrivo allo sprint per altri concorrenti, abbiamo avuto veramente messe a dura prova la resistenza fisica dalla parte del giro, quello più lungo, quello sul 2 km e 500 metri, che portavano i concorrenti nella zona della Pellinetta, che dava percorso in gara, cioè avanti e indietro per qualche tornata. Questa era sicuramente la parte più impegnativa del loro concorrente terminato. ricordo allievi e allieve tre partenze femminili, con la partenza nella categoria cadetti A e B, maschili e femminili, a termine la parte agonistica, tanto per intendersi, di questo 55 camminato italiano di Corsa Campestre, UISP, qui al Parco Ferrari di Modena, dopo vi sarà solo la cerimoniale con le varie premiazioni, per il supporto sonoro di questa manifestazione, la parte che riguarda la parte arrivo, partita la categoria allievi e allieve, per voi tre chilometri, tre chilometri da percorrere, puoi seguire altri due, per voi tre giri nel percorso, 44 al numero dei partecipanti, siamo al passaggio del primo giro, qui a un terzo di gara, con loro tre chilometri da percorrere, categoria ai ghiedi maschili e femminili, grazie a tutti. Grazie a tutti. La prossima categoria a partire sarà quella risalvata, la categoria ragazzi e ragazze, distinte dal tagliandino, dove è stato posto il nome, il cognome, società di appartenenza, di colore arancione, pallone a partire alle ore 12-15, 7.45 di gara, i primi atleti hanno iniziato l'ultimo giro, proviamo di non attraversare il percorso, stanno supergiungendo degli atleti, per evitare delle eventuali cadute, hanno iniziato l'ultimo giro, ci stanno portando, siamo a metà quasi dell'ultimo giro, quando ogni giro misura un chilometro, giudica il numero 24, la lupesina chiude al terzo posto, si è fatto passare anche dal numero 21, mi sembra, quarto, arriva anche per questo quinto concorrente, arrivo in volata anche per il numero 25, chiude, siamo in attesa, della prima concorrente femminile, che è andata a freggiarci, arriva in volata, tra l'albienze, propria fatica, la cortezza, 9-18, sta sottolineando anche la seconda concorrente femminile, numero 55, 32, abbiamo l'arrivo anche nella terza concorrente femminile, numero 54, sul podio, primi 6 classificati, della categoria maschile e femminile, di ogni categoria, altra concorrente femminile alla conclusione, numero 57, i contadistinti dal tagliondino con il cartoncino arancione, avranno terminato la categoria allievi, come anche la patenza successiva, che sarà quella risolata in categoria ragazzi e ragazze B, anche loro conclusiva, abbiamo altri concorrenti per 3 km, daremo il via, concorrenti che è subito dal numero 41, e sigla accoglielmente laondersi, la serra è USOLATI, capisco in testo Halo, era un Paolo, capisco in p TIMI, chiaramente la procedura aung FUXITAM VARGINI, grazie a tutti! Grazie